Un labirinto di bambù creato per ritrovare se stessi è immerso nel parco di Villa Erba Cernobbio, una creatura realizzata interamente in materiali naturali, metafora del mondo. A orticolario anche quest'anno le piante sono il centro della visita e dell'esperienza e conducono i curiosi, tra colori e profumi, in una dimensione fiabesca. Obiettivo principale dell'edizione 2022 dal titolo Groncioli di Fiaba che dopo lo stop obbligato a causa della pandemia è tornata in presenza. Proprio finalmente questa è la frase che mi viene detta dagli espositori che sono più di 270 e la frase che mi dicono i primi visitatori che ho incontrato quando abbiamo aperto alle tre. Ibiscus, camelie, piante grasse e verdi, aromatiche da frutto, bulbi, fiori ma anche arredi, accessori e installazioni. E poi il bambù, la pianta scelta come simbolo di questa edizione che porta con sé valori e tanta innovazione. Mi piace, trovo che è diverso dagli altri anni, più vario e penso che avrà una buona riuscita. I colori dei fiori, bellissimi, guardateli, bellissimi. L'evento autunnale a Villa Erba dal 2009 è un luogo di incontro per chi si interessa di giardinaggio, paesaggio, arte e design. Richiama visitatori da tutto il mondo. Avendo un piccolo giardino cerco qualcosa di particolare da mettere nel giardino e tutti gli anni vengo qua e vedo e trovo sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che offrono gli altri bioisti comaschi.